bella ragazzi e bentornati sul mio canale siamo qui oggi con un super big match ancora su tifa 15 ovviamente e siamo qui con un super ospite speciale brazzo brazzo crew eccomi qua grazie dell'invito questo è un super big match vediamo se le italiane vanno avanti ovviamente Roma Bayern Monaco vediamo qua questa super sfida ovviamente maglie classiche allora ecco la formazione del Bayern ragazzi con Neuer tre pali Dante Boateng Rafinha poi Schweinsteiger Lam Robben Goetze Ribéry Lewandowski andiamo invece a quella di brazzo chi ha allora parto con De Sante si importa Castan, Manolas, Maicon sulla destra e Cole sulla sinistra con De Rossi, Cdc insieme a Naigolan e Pianci a centrocampo con Totti unica punta con a sinistra Gervinho e a destra Iturbe siamo tutti pronti ragazzi spaccate like 3 2 1 e go ed eccoci ragazzi siamo allo stadio olimpico di Roma Roma Bayern Monaco innanzitutto vi ricordo di ovviamente di lasciare like e commento pronosticando secondo voi come finirà questa partita e come finirà la partita di questa sera ovviamente vincerà la Roma si parte subito con gli ospiti con Lewandowski e Mario Goetze si parte ecco il Tatino subito che parte in attacco Goetze ancora velocissimo Goetze subito Bayern e porta il tiro ma che mamma mia l'ho vista dentro sta palla subito in avanti il Bayern con Mario Goetze Subito intercettato una palla esce l'icolo in avanti per Totti, Totti lo vede subito Naingolan uno dei 6 passi parte, parte Naingolan e tiro le rossi recupera, ancora Lewandowski, recupera, Lewandowski, a tu per tu, Lewandowski parte il tiro e fuori no questo si recupera recupera, ancora Lewandowski, Lewandowski si gira, Lewandowski parte il tiro ciao a Tata non si passa neanche dalla parte mia però eccolo Totti lo vedi Gervinio, Gervinio Tocco, Gervinio no mamma mia che parata, hai visto Noyer come la pigata? ho presa malissimo ecco, ancora Gervinio Dante recupera ecco, i turbe, i turbe, vedi Totti al centro Totti Neuer, dice di no i turbe oh, si è in gira, madonna come si è girato il tiro dei turbe, no, non ci posso crede Dante, vai Stecher non c'è più niente la Roma, la Roma sta in palla ragazzi c'è un Steiger lancio per Lewandowski 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 De Santis no Lewandowski non ci arriva però no perché sbaglia la Roma guarda il tiro ma non ci credo non ci credo ma anche io mamma mia primo tempo 0-0 partita equilibrata partita super con i sconvolgimenti di campo da una parte e dall'altra possesso palla equilibrato che dire Brazzo, partita equilibrata si, molto diciamo un po' sfortunata sia da una parte che dall'altra un po' troppi con i generali un po' imprecisi si, bravo imprecisi si riparte col secondo tempo raga spaccate il like si parte Robben Robben carica il mancino non perde le palla qui eccolo Gervinio 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 dai freccianera freccianera Robert Cross al centro e arriva e tira gol Gervinio 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 e 1-0 per la Roma ragazzi Juan Manuel Iturbe al 52esimo si riparte raga dall'1-0 vai Goetze Goetze aspetta Lewandowski porta il tiro mamma mia subito Lewandowski accelera Lewandowski ce l'ha sul mancino mamma mia grandissimo lancio per Lewandowski Lewandowski mannaggia Lewandowski parte col tiro ancora Robben ancora Robben oh che cazzo no Lewandowski parte il tiro di intacco non ci credo un call incredibile ma che cazzo Lewandowski un call trepitoso non ci crederà che lui prova 1 Bayern Monaco 1 che gol di Lewandowski si tacco ma guarda che ha fatto oddio riguardate up not bad raga ok ma il difensore mio prima il gol è bellissimo però il difensore mio ha fatto veramente una cavolata e riparte subito Juan Manuel Iturbe e prova subito lo script e prova subito e vaffa non si può attenzione a Totti Totti tira la mira niente mannaggia la gira benissimo per Robben Robben non va mamma mia non era fuori gioco 5 di recupero non era fuori gioco no 1 a 1 lo stadio olippico super partita golassi da una parte dell'altra e speriamo bene ragazzi che questo risultato ci porti fortuna perché io da grande lupacchiotto speriamo bene che un 1 a 1 ci metterà la mano sul fuoco per un 1 a 1 quindi va benissimo che il Bayern quest'anno è troppo forte ma anche la Roma non scherza ragazzi vabbè detto questo ragazzi spero che questo super big match vi sia piaciuto io ringrazio Brazzo per essere stato qui grazie a te per l'ospitalità a Datino e Brazzo è tutto like, commento e pronostico e bella bella ciao ciao